Mercoledì 27 gennaio 2021, debutto di Carlo Sainz alla guida della Ferrari sulla monoposta SF71H per i primi test in vista del campionato 2021 di Formula 1. Il pilota spagnolo ha percorso il primo giro sul circuito di Fiorano alle ore 9.34. Una giornata molto intensa il programma perché sul circuito di Fiorano sono previsti diversi giri per accumulare chilometri e soprattutto prendere confidenza con il nuovo team di Maranello per Carlo Sainz. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.